Voi non siete pronti a questo video, indovinate perché? Perché questo video è fuori di testa regà Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi che si stanno iscrivendo al mio canale Cioè voi ce l'avete proprio, avete presente l'asta del microfono? Eh, voi ce l'avete proprio dritto, dritto, vedete com'è bello Così, così ce l'avete regà, siamo quasi centovila, centoventimila iscritti regà Grazie veramente con tutto il cuore, grazie a tutti quelli che mettono like, a quelli che si iscrivono, a quelli che commentano A quelli che mi inviano le foto dei piedi, eh, questo non dovevo dirlo Tra l'altro ragazzi, volete vedere i miei piedi? Allora, se in questo video dovessimo arrivare a quindicimila like, io nella prossima intro vi esco i piedi L'ho detto, l'ho detto regà, nella prossima intro io vi esco i piedi Quindicimila like e vi esco i piedi, ve lo giuro Ma, a prescindere da questo, ragazzi, in questo video proveremo le macchine casuali Ecco, l'ho detto, l'ho detto regà, le macchine casuali sono orrende Cioè una più brutta dell'altra, perché il gioco ci fa questo? Ragazzi, vi lascio al video, non dico altro, vi dico solo macchine casuali Vediamo che cosa ci esce, ragazzi, in questo, in questo, un agglomerato di... Andiamo a vedere, ragazzi, andiamo nel video Ragazzi, come potete vedere, la mia Fennec splende, risplende Guardate che bella, regà Andiamo a capire come funzionano queste macchine casuali Che cose sono le macchine casuali Allora, praticamente, voi selezionate il vostro predefinito E andate a fare questa cosa qui Andate su personalizzazione auto E andate su predefiniti casuali Vediamo che cosa ci esce Non voglio guardare, non voglio guardare No, già dal suono è bruttissimo, regà Già dal suono è bruttissimo Ragazzi, no, no, ragazzi, no, no, no Io me ne vado, no, io me ne vado, regà Ma che cos'è sta roba? Ma come faccio a giocare con una... Ma che cos'è quel crestino? Ma che cos'è quel crestino? Ma questi colori psichedelici? Cioè, sembra questo, sembra, guardate E cos'è tutta quella... tutti quei colori? Cioè, sembra... Cioè, che cos'è, che cos'è? Cioè, io mi rifiuto di usare sta zozzeria Ma come faccio ad andare in game con questa zozzeria? Aiuto! Ma poi la resendina è rosa, oh mio Dio Andiamo, andiamo, ragazzi Impavido Vediamo, secondo me non ne vincerò nessuna Non ne vincerò Allora, la sendina ci poteva andare peggio Mamma mia, ma è riprovevole, ragazzi Ma poi, ma poi anche... Oddio, eh Però il booster è là No, regà Il supersonic spacca ruota No, non si vede un bechellus È finita, ragazzi Perderò tutto il mio MMR guadagnato Un saluto, Enrico Madonna, la buona Ma poi con l'antenna là Che cos'è? Andiamo, sì Con l'HF fan Attenzione Attenzione, la sentine è rosa Secondo me l'avversario è spaventato E per forza è spaventato Guarda là Spam! Incredibile Punisce la sentine è rosa, regà Guarda che crestina c'è Ma perché l'avversario è spaventato? Ecco perché Spaventato, regà Cioè, è normale Guarda là che macchina c'è Ti si presenta Ti si presenta una macchina del genere È normale che sei spaventato È nulla che tu Stai lì con l'octane Tutto traiardoso Cioè Questa è la macchina che punisce Lui e il suo crestino Guarda come va Spacca il terreno Pam, 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 pam Ci poteva andare molto peggio però Ci poteva andare molto peggio Io Non ho parole Attenzione Vince il kickoff, ragazzi Questo boost è bellissimo, ragazzi Attenzione La sentine Mamma mia Che poi Ragazzi la cosa bella È che faccio schifo La cosa bella, ragazzi È che Cosa succede? È che devi essere veramente bravo A cambiare hitbox di macchina Cioè io non sono abituato Con la sentine Non l'ho mai giocata Quindi È veramente difficile come challenge Però è una bella idea Dai Bello Ti rubo il boost Perché sono Un bambino cattivo Ti rubo anche quest'altro boost Attenzione È il case Et voilà È il case Questo si è Spendo il pad Mi dispiace È il case La sentine Punisce Punisce Ragazzi Scrivete nei commenti Quanto MMR avete Io 1520 Voi quanto MMR avete? Lascio il like A quelli che scrivono Con l'MMR Attenzione Vincitore a tavolino Si è spaventato della macchina Si è fatto il segno della croce È andato via Andiamo raga Andiamo a provare la prossima macchina Allora Garage Personalizzazione auto 5 4 3 2 1 No raga Che cos'è sta roba? Ma che cos'è? Ma è la macchina più brutta mai vista Il ritorno della grog Il ritorno della grog Ma poi che c'è il morbillo? Andiamo a giocare con la grog Oh mio dio raga Andiamo Vediamo se anche la grog Punirà gli avversari E si spaventerà Siamo contro Psy-X Mamma mia Senti là come Che macchina Eh Mosoccacci tuoi Arriva attenzione la grog Mamma mia Un contrasto sublime Contro l'octane Là bella Tutto aggressivo Lui con l'octane Poi ci sono io con la grog Guarda che macchina c'ho Vieni qua Che ti spacco pure con la grog Via c'è Via c'è Con queste elichette qua Il signore grog Prova un Niente Ti distrae Tantissimo Sta scia Cioè vedi Sti pesci che escono Invece nella mamma degli Ethers Entrano e basta No eh Perché devi dire queste cose Sembra scurrile L'ho bampato Perché qui andiamo Di prepotenza E di Di stazza Ecco Agile come un elefante Zoppo ragazzi Secondo me l'avversario è spaventato Da questa macchina Cioè so fare gol Solo così con questa macchina Come faccio Non si vede il davanti Non si vede niente Ma com'è Ma com'è Guarda questo Ah tu vuoi fare un po' di Un po' di Air Dribble Lo faccio anche con la grog L'Air Dribble Attenzione A casa ragazzi A casa Solo così so segnare Raga Con questa macchina Solo così Perché non vedo il davanti Non vedo gli spigoli Guarda Spallata di prepotenza Palla su tettuccio Capriola E a casetta Nel baretto Ok Mamma mia Agile Agile Lo bampo Mamma mia Raga Incredibile Incredibile questa macchina Incredibile Mi ha emozionato La prima volta E adesso mi ha riemozionato Guardate lì Quanta agilità Quanta potenza In una sola macchina 3 a 1 E zitto Muto devi stare Oh mio dio Che sto vedendo Ma cosa vedo Nei miei occhi Purtroppo Vado ragazzi Giuro è impossibile Giocare con questo Questo spruzzo Senti Senti che acqua Edotto pugliese Sì Bravo Ti voglio vedere a te Con ste eliche Di sottofondo Voglio vedere a te Giocare Bella clean L'octane Ah Sì 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 Salta come un elefante Zoppo Mamma mia Bravissimo Bravissimo Guarda lì con le elichette Insieme le elichette Le tue scarpine Oh yeah Mamma mia E' inguardabile No 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 E' difficilissimo ragazzi E' quasi impossibile Tra impossibile E' difficile E' veramente fuori di testa Vediamo No 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 moglie e figli Cattivo 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 Non si fa Solo perché con i più deboli Solo perché con i più deboli No ti prego Grog Non tradirmi Proprio adesso Non tradirmi Oh Mamma mia la Grog Hai visto Hai visto Ci siamo ragazzi Kick off finale Speed off Vai vai Non ci credo Ragazzi Anche i Grandi Cadono GG per lei GG per lei Ragazzi Proviamo Proviamo Un altro Un altro Un altro Un altro Un altro Un altro Vediamo Personalizzazione auto Andiamo Si Un pirata Arrrr Vediamone un altro 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 Beh questo ci sta dai Cioè alla fine La Dominus Di nuovo il pirata Che vuol dire Se volete Un altro video del genere Se volete un altro video del genere Con macchine casuali Arriviamo a 15.000 like E io Ve lo porto Regà Ve porto la parte 2 Regà La parte 2 Con le macchine casuali Spero che questo video Vi sia piaciuto Ragazzi Lasciate un bel pollice In su E ci vediamo Tutte le mattine Alle 9 In live Vi aspetto Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti